cari amici di gunpassion95 buongiorno e ben ritrovati nel secondo video di questo mese nel secondo unboxing di questo mese ovviamente questo video verrà caricato con un po di ritardo in modo tale da mostrarvi un altro unboxing in due video separati se vi ricordate avrete di sicuro visto non solo la recensione ma anche il video di unboxing del manuale Cartridges of the World molto bello per il mese di agosto e andiamo a vedere cosa contiene quest'altro pacco ovviamente sempre pacco da Amazon non ho la più pallida idea tra i tanti libri quale sia quest'ultimo quindi andiamo a vederlo subito ci mettiamo come al solito lateralmente non che ci sia particolare bisogno di scollarlo bene il portello dovrà essere pulito così almeno i palchi di Amazon sono sempre ben sigillati giustamente in modo tale da non creare problemi o aperture strane in fatto di viaggio allora quale sarà eccolo qua perfetto continuiamo il nostro viaggio nella serie dei gun digest book in particolare con quello della cappa la cappa è una delle piattaforme l'arma se così possiamo dire che mi piace di più e soprattutto se utilizzo di più avendo come voi benissimo sapete uno Zastava M70 abitura quindi mi sembrava doveroso acquistare un libro serio che mi trasmettesse tutto ciò che c'è da sapere non solo per quanto riguarda la manutenzione ma anche per l'utilizzo dell'arma tutto ciò che il tiratore oltre che il collezionista deve sapere soprattutto per quanto riguarda gli a cappa e questo qui signori al modico costo di neanche 20 euro ma molto meno grazie agli sconti che ci sono ultimamente agli saldi è uno dei libri secondo me più interessanti per quanto riguarda la cappa però non ci sia il riflesso ho messo in modo tale che non ci siano riflessi vari quindi abbiamo expert advice leggo da dietro basic cooperation and maintenance of the AK rifle shooting and practical application quindi qualche consiglio per quanto riguarda l'utilizzo pratico al poligono e non solo abbiamo come utilizzare le mire gli accessori le munizioni alcuni consigli per quanto riguarda le munizioni ovviamente la storia quindi è un libro completo a 360 gradi per qualsiasi detentore di a cappa ci tenevo ad averlo ci tenevo a leggerlo proprio perché la cappa è un fucile un'arma che uso al poligono ed è giusto non solo essere precisi comunque conoscere la storia dell'arma ma anche conoscere le curiosità e i particolari tecnici se siete interessati ovviamente a questo libro lo trovate su amazon probabilmente lo recensiremo a settembre se non un altro in un altro mese ma credo proprio a settembre e detto questo io spero che quest'altro piccolo video di unboxing vi sia piaciuto in attesa perché dovranno arrivare altri pacchi vedremo nei prossimi mesi appunto questi questi libri e vi do appuntamento come sempre alle prossime recensioni qualsiasi curiosità qualsiasi commento è sempre ben accetto iscrivetevi se non avete già fatto e vi rimando ai prossimi video ciao ragazzi alla prossima